Lo so, mi stavate attendendo con ansia. Non preoccupatevi, ho un serro per voi degli argomenti veramente eccezionali. Stanno per arrivare le nuovissime puntate di Nespolo Geographic. Nelle prossime puntate parleremo di fiche, cazzi, merdare, culi culi. No, 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 no. Giullari di corte dal 1114. Praticamente, se vi fa piacere seguire questi video, che tra l'altro sono molto utili, vi invito ad iscrivervi sul mio canale YouTube, quello di Nespolo Giullae. No, 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 no. No, 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 no.